Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen, Vergine Santissima e Mamma mia, grazie per tutto quello che hai fatto in questo giorno nella mia vita. Ho bisogno della Tua forza, del Tuo potere, ho bisogno della Tua misericordia, perché senza di Te, come una buona mamma, io non posso far nulla e non sono in grado di continuare a portare avanti ogni mia difficoltà. Voglio avere il coraggio, voglio avere la pazienza, voglio avere la speranza e tanta voglia di vivere. Rinuncio stasera a qualsiasi sentimento negativo. Ti chiedo di toglierlo dal mio cuore e di riempirmi dell'amore che libera e che rinnova l'esistenza. Benedetta, Vergine Maria, allontana dal mio cuore l'angoscia per vivere con tutta la sicurezza e la speranza e la pace che viene da Te e dal sapere che sei sempre al mio fianco e non mi abbandoni mai. Credo nel Tuo meraviglioso amore e so che quello che Ti chiedo si avvererà in me. Madre mia, Tu non mi trascuri mai e non trascuri mai quello che Ti chiedo a cuore aperto e quello che non riesco ad averlo è perché Tu ho un mare santissima. Sai che non è per il mio bene e Tu non sbagli mai. Dammi la Tua pace per riposare tranquillo in mezzo a tutte le difficoltà che vivo in questo momento. Dammi un cuore sereno che non perda tempo ad essere infelice ma sappia amare e lasciarsi amare. Manda il Tuo Santo Spirito Signore su di me per intercessione di Maria Santissima Madre Tua Ave o Maria piena di grazia il Signore è con Te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen Cari figli così tante volte ho ripetuto e questa sera desidero ancora una volta ripetere pregate cari figli per la conversione in particolare questa sera vi invito a pregare per la conversione nell'ambito familiare pregate per tutti i figli che si sono allontanati dai propri genitori e viceversa pregate per quei genitori che stanno rascurando i propri figli vi prego pregate che la grazia divina e l'azione dello Spirito Santo guidi questi figli e questi genitori che sono lontani dall'unione con mio figlio Cristo Gesù grazie cari figli perché anche questa sera avete risposto alla mia chiamata buonanotte Maria